Ciao, noi siamo Mirko e Giasmina. In questa terza lezione sui fondamenti del buddismo di Nichiren Daishonin, ovvero fede, pratica e studio, approfondiamo lo spirito dello studio buddista. Come membri della Soka Gakkai ci stiamo impegnando ad approfondire lo studio del buddismo e a condividerlo con gli altri, in accordo con l'esortazione di Nichiren? Impegnati nelle due vie della pratica e dello studio. Senza pratica e studio non può esservi buddismo. Devi non solo perseverare tu, ma anche insegnare agli altri. Sia la pratica che lo studio sorgono dalla fede. Insegna agli altri come meglio puoi, anche una sola frase o un solo verso. Il primo presidente della Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, era convinto che la religione dovesse aiutare concretamente le persone a vivere in modo retto e a sviluppare forza e saggezza affinché potessero farlo. Trovò nel buddismo di Nichiren una filosofia incentrata sul rispetto e la dignità della vita, capace di sviluppare quella saggezza necessaria per realizzare una felicità autentica e la pace. Makiguchi morì in carcere per i suoi ideali. Fino all'ultimo istante non si fermò nella lotta per affermare questi ideali umanistici. La prima cosa che chiese in prigione fu una copia degli scritti di Nichiren e dal carcere scrisse alla famiglia che si stava concentrando unicamente sulla fede poiché essa è di estrema importanza. Anche Toda, il suo discepolo, fu incarcerato insieme a lui. Approfondendo la fede tramite lo studio e la recitazione di Nam-myo-ho-renge-kyo, Toda in carcere si risvegliò alla sua identità di Bodhisattva della Terra e al fatto che la vita stessa è il Buddha. Il loro impegno incessante per Kose Rufu non li abbandonò neanche in quell'inferno. La Soka Gakkai, che oggi è diventata un movimento religioso mondiale, è nata da questa battaglia condivisa di maestro e discepolo, di continuare a mettere concretamente il pratica, il goscio nei momenti cruciali, mantenendo uno spirito di ricerca orientato alla fede. Infatti è concentrando i nostri sforzi nella fede che attingiamo a qualcosa di più profondo e diventiamo in grado di plasmare anche il destino più implacabile. Lo studio del buddismo è necessario per approfondire la fede. Per questo Nichiren ci ricorda che senza pratica e studio non può esservi buddismo. Il maestro Ikeda ha ereditato lo stesso spirito di Makiguchi e Toda. Dunque possiamo dire che i tre presidenti sono legati dall'incessante impegno e dedizione a coserrufu, basati sullo studio buddista, come la lotta per incarnare lo stato vitale della buddità. Nella lezione di Ikeda che oggi studiamo si legge La Soka Gakkai ha costruito un grande movimento filosofico basato sulla forte motivazione personale e sull'agire in prima persona. Un movimento in cui le persone comuni studiano il buddismo, lo condividono con gli altri e lo mettono personalmente in pratica. Il presidente Ikeda definisce questo movimento filosofico un'università senza aule, diffusa in tutto il mondo, dove crescono le persone e si formano. Mi sono chiesta quali fossero delle caratteristiche di questa università e ho provato a darmi una risposta. Intanto siamo tutti e tutte compagni e compagne di corso, di fede, e anche se nella nostra organizzazione esistono i responsabili, non possiamo delegare a loro il nostro spirito di ricerca. È come se pretendessi di passare un esame facendo studiare Mirko al posto mio. Se vogliamo essere veramente felici, come spiega il maestro Ikeda in questo brano, possiamo basarci solo sulla nostra motivazione personale e sulle nostre azioni, poiché siamo direttamente noi che riceviamo i benefici da questo studio. L'altra caratteristica di questa università è la relazione con il maestro. Nichiren inviava ai suoi discepoli lettere ricche di compassione, in cui traspare tutta la sua preoccupazione per le difficoltà che stavano affrontando. Essendoci all'epoca poca carta, li incoraggiava a riunirsi e a leggerle insieme. Perché? Perché sapeva che tramite quelle parole essi avrebbero potuto percepire l'immenso stato vitale di Nichiren, approfondire la loro fede per ritrovare la speranza. E il fatto di leggerle insieme come discepoli è l'ingrediente per incoraggiarsi reciprocamente a ripartire con una nuova determinazione. In questa università senza aule, ricercare e sviluppare la relazione con il maestro è sempre stato il nostro punto di partenza e questo non dovrebbe mai cambiare. Le parole del gosho e dei maestri sono dialoghi da vita a vita, tramite i quali entriamo in contatto diretto con loro. Ikeda, in questa lezione, incoraggia a leggere gli scritti di Nichiren come se fossero indirizzati personalmente a ciascuno di noi. Quest'anno ricorrono 30 anni da quando nel 1993 Ikeda ha iniziato a scrivere il romanzo La nuova rivoluzione umana. È impossibile immaginare gli sforzi che ha richiesto scrivere una puntata ogni giorno per tutti questi anni. E nell'epilogo del romanzo il presidente Ikeda spiega con che spirito l'ha fatto. Scrivere ogni giorno costituiva per me una lotta in cui riversavo il cuore e l'anima. Pensando a tutti i preziosi compagni di fede in Giappone e nel resto del mondo che si stavano sforzando intensamente nella fede, sono sceso nei recessi più profondi del mio animo per riuscire a scrivere la mia storia, come se stessi scrivendo una lettera di incoraggiamento a ognuno di loro. Allo stesso tempo, mentre scrivevo, ero impegnato in un dialogo interiore con il mio maestro. La sua voce risuonava nella mia mente, mi spingeva a trasmettere lo spirito della Soka Gakkai ai posteri e ad adempire la mia missione in questa vita, spazzando via ogni stanchezza e riempiendomi di coraggio. In tutto il mondo i membri della Soka Gakkai, con i giovani in prima linea, si stanno impegnando a leggere la nuova rivoluzione umana, con l'obiettivo di portare avanti questo dialogo diretto con il maestro e a realizzare una crescita nella fede. Approfittiamo di questa occasione di oggi per rideterminare di sfidarci insieme nella lettura della nuova rivoluzione umana. Salve a tutti e a tutte nuovamente da parte mia. Continuiamo ad approfondire questa lezione del Presidente Ikeda, incentrata sul significato dello studio del buddismo. E torniamo per un attimo all'inizio, cioè al titolo della lezione, che è lo studio del buddismo della Soka Gakkai per elevare lo stato vitale delle persone. Questo titolo chiarisce immediatamente qual è lo scopo dello studio del buddismo, così come viene trasmesso nella Soka Gakkai. Elevare lo stato vitale di tutte le persone, ossia trasformare la vita e conseguire lo stato vitale della buddità. Conseguire lo stato vitale della buddità può sembrare un obiettivo troppo grande e lontano dalla nostra portata. Tuttavia, ogni volta che studiamo le guide del maestro Ikeda e gli scritti di Nichiren Daishonin, si aprono dentro di noi possibilità e scenari che generalmente non riusciamo neanche a immaginare. Questo per me è uno degli aspetti che rendono lo studio del buddismo meraviglioso. Perché, come diceva Jasmina, lo studio del buddismo è veramente una comunicazione diretta con i nostri maestri, un modo per entrare in contatto con la loro saggezza, il loro coraggio e la loro compassione. Questa comunicazione interiore con il maestro ci porta a rivoluzionare la nostra vita e a scoprire che ognuno e ognuna di noi ha una missione veramente grande e importante. Il presidente Ikeda scrive quanto segue. Quando si legge il gosho, il punto essenziale è entrare in contatto con lo spirito del Daishonin. Ogni volta che leggiamo il gosho, abbiamo la possibilità di entrare in contatto con lo spirito di Nichiren Daishonin. Possiamo percepire la sua grande compassione e la sua incrollabile determinazione di realizzare la felicità di tutta l'umanità per l'infinito futuro. Il cuore di Nichiren Daishonin risiede in questo grande voto, in altre parole, nel voto di Gosen Rufu. Studiare il gosho, ossia gli scritti di Nichiren, ci permette di risvegliare noi stessi a questo voto, incidendolo nel nostro cuore e utilizzando al meglio la nostra vita per realizzarlo. Il buddismo offre una risposta alle domande fondamentali sulla vita e sulla morte ed è profondamente legato alla nostra vita quotidiana. Basandoci sulla saggezza del buddismo possiamo trovare soluzioni a ogni problema e sofferenza e allo stesso tempo possiamo forgiare uno stato vitale di assoluta felicità in ogni circostanza, per quanto cupa e dolorosa possa essere. In particolare, tornare al gosho e alla nuova rivoluzione umana quando affrontiamo una difficoltà o arriviamo a un punto morto, mentre continuiamo a recitare Nam-myoho-renge-kyo, ci permette di trasformare profondamente la nostra vita. Questa è una formula che possiamo sperimentare ogni volta, a partire dalla situazione in cui ci troviamo ora. Il Presidente Ikeda scrive Quando siamo disperati, leggere il gosho può far sorgere il sole della speranza nel nostro cuore. Quando non sappiamo più cosa fare, leggere il gosho può aiutarci a raccogliere lo spirito indommito di un re leone e quando soffriamo per una malattia, leggere il gosho può colmare la nostra vita di nuovo vigore e vitalità. Lo studio è un aspetto fondamentale della pratica buddista perché ci permette di approfondire la nostra comprensione della vita, inquadrando ogni situazione dal punto di vista della fede. Ma non solo. Grazie allo studio possiamo approfondire il voto condiviso con il Maestro, lottare per la felicità di tutte le persone. Questo è il punto fondamentale. Quindi nel buddismo lo studio non ha a che fare con una comprensione teorica di principi o teorie, bensì richiede un impegno che coinvolge tutta la nostra vita per realizzare il voto di Kosen Rufu. Un altro punto importante, spiega il Maestro Ikeda, è che per conseguire la buddità occorre dissolvere l'oscurità fondamentale che offusca il potenziale della buddità. L'oscurità fondamentale, detta anche ignoranza fondamentale, è l'illusione profondamente radicata nella vita che è all'origine di tutte le altre illusioni. È l'incapacità di vedere o riconoscere la verità, in particolar modo la vera natura della propria vita. Nello specifico, Nichiren Daishonin afferma che l'oscurità fondamentale è l'ignoranza della legge fondamentale della vita, o ignoranza del fatto che la vita individuale è nell'essenza manifestazione di tale legge. Questa oscurità ci porta a sminuire o addirittura offendere il valore della nostra vita e di quella degli altri. E il buddismo spiega che è all'origine di tutte le sofferenze. Ma la lotta contro l'oscurità e le funzioni demoniache non è facile da vincere. Qual è la chiave per riuscirci? Nichiren Daishonin e il dente Ikeda rispondono chiaramente a questa domanda. La chiave è compiere sforzi ancora maggiori nella fede. Grazie alla fede nella legge mistica non c'è il minimo dubbio che riusciremo a sconfiggere l'oscurità fondamentale che offusca il potenziale della buddità. Così potremmo conseguire uno stato vitale e meraviglioso, provare una felicità vasta e autentica che abbraccia tutte le persone e arricchire la nostra vita di grandi benefici. Incidendo nel nostro cuore lo spirito di maestro e discepolo, possiamo sperimentare i veri benefici del Gohonzon e costruire una vita felice e realizzata. Così facendo, impregniamo e tingiamo la nostra vita di buddità. Scrive il maestro Ikeda. Impegnarsi nella pratica buddista, giorno dopo giorno, per realizzare i propri desideri e scopi, rafforza le nostre preghiere e approfondisce la fede. Leggere il Gosho ha lo stesso effetto. Quando perseveriamo nella pratica buddista, cercando di avvicinarci allo stato vitale del Daishonin, possiamo conseguire uno stato di assoluta felicità nel quale il solo fatto di vivere rappresenta la massima gioia. Come detto all'inizio, Makiguchi e Toda vennero incarcerati dalle autorità militariste e insieme a loro anche altri responsabili, che però abbandonarono tutti la fede. Toda ricostruì da solo la Soka Gakkai e nel farlo il suo primo scopo fu promuovere lo studio del buddismo, che potesse far crescere dei discepoli forti davanti a qualsiasi persecuzione. Quando dialogo con amiche che non conoscono il buddismo, inizialmente loro pensano che esso insegni una serie di regole a cui uniformarsi, come prendersi cura dei genitori, non paragonarsi agli altri, preoccuparsi per la felicità altrui, eccetera eccetera. Il buddismo invece accompagna in un percorso di rivoluzione umana, affinché ogni persona arrivi in modo naturale e quindi forte, a capire che la vita ha un valore immenso e che la nostra felicità non può prescindere da quell'altrui. Prendersi cura dei genitori o non paragonarsi agli altri sarà una conseguenza naturale di ciò. Infatti una religione per gli esseri umani ha la funzione di portare alla luce qualità già inerenti alla loro vita. A tale riguardo si parla di saggezza buddista. Nel libro La saggezza del Sutra del Loto, il maestro Ikeda ne dà una chiara definizione. La saggezza non è un tipo di conoscenza che può causare sofferenza agli altri, ma intuizione illuminata che mira a migliorare la propria vita e quella degli altri. Penso che le distorsioni della società odierna derivino dal confondere la saggezza che è olistica con la conoscenza che è frammentaria e dall'incapacità di distinguere la fede autentica dalla cieca credulità. Andando avanti approfondiamo perché praticando il buddismo noi riceviamo una risposta concreta e chiara alle nostre preghiere. Ci può capitare di pensare, io grazie al buddismo ho già realizzato tantissime cose, quindi non c'è bisogno che approfondisca lo studio, ma il punto è che lo studio del buddismo rafforza la fede e la fede ci porta ai benefici. Questo è spiegato tramite il principio dei quattro poteri. Il potere della legge e il potere del Buddha, inerenti al Gohonzon, si manifestano nella vita in relazione ad altri due poteri, che sono propri della persona. Il potere della fede è quello della pratica. Quando questi ultimi due poteri si fondono a quelli del Buddha e della legge, producono benefici che vanno oltre ogni aspettativa e concezione. Questi benefici sono inesauribili, cioè non quantificabili. Più noi approfondiamo la comprensione del buddismo, più rafforziamo la fede, che ci permette di attingere a grandi benefici. La conseguenza di questo è che il nostro cuore si riempie di gioia e gratitudine, perché raggiungiamo la convinzione che i nostri desideri si realizzeranno sicuramente. Niente dunque nel buddismo ha a che fare con il senso del dovere. In questa lezione il maestro Ekeda racconta di quando Toda, rivolgendosi agli altri responsabili, con l'intento di spronarli, diceva loro che i benefici che lui aveva ricevuto erano grandi quanto una stanza, mentre a paragone quelli ottenuti da loro non erano più grandi del dito mignolo. Direi che questa metafora rende molto bene l'idea. Una stanza a paragone di un dito mignolo. Chiaramente Toda non lo diceva per affermare la sua superiorità, ma per incoraggiare a sperimentare pienamente i benefici del Gohonzon. Sempre nella saggezza del Sutra del Loto, Ekeda affronta questo aspetto, affermando Mentre in generale è bene desiderare poco e accontentarsi di ciò che si ha, nel caso della legge dobbiamo nutrire grandi aspirazioni. Essere soddisfatti di ciò che si è conseguito potrebbe sembrare un atteggiamento umile, ma in realtà equivale ad arroganza e a sottovalutare il potenziale della vita. Non c'è un obiettivo finale nello studio. Più studiamo, più approfondiamo. Qual è dunque l'aspetto dello studio che dovremmo sempre coltivare? È lo spirito di ricerca. L'arroganza, invece, è quel sentimento che ci fa sentire di aver già acquisito la piena padronanza dei principi o della relazione con il maestro. Dovremmo stare sempre in guardia, perché nessuno di noi ne è esente. Inoltre, studiare il buddismo non è soltanto conoscerlo, è agire per cose rufu e restare in contatto con lo spirito di Nichiren e del maestro Ekeda. Le attività della Soka Gakkai servono proprio a incoraggiarci a fare questo. Anche se a volte ci sentiamo stanchi e per niente motivati a partecipare alle riunioni di discussione, quando vinciamo questa sensazione e abbiamo la possibilità di ascoltare le esperienze e gli scritti di Nichiren, la nostra vita ne viene rivitalizzata completamente e ci sentiamo alleggeriti. Sono sicura che tutti abbiamo fatto questa esperienza almeno una volta. Da quando è stata fondata, la Soka Gakkai ha continuato a perseverare nelle due vie della pratica e dello studio, impegnandosi nel diffondere gli ideali umanistici del buddismo. La tradizione della nostra organizzazione è quella di perseverare in questo allenamento. Quando guardiamo una persona bravissima a padroneggiare uno sport o un'arte, ci chiediamo come faccia. In realtà la chiave sta proprio nel suo costante allenamento. Grazie alla Soka Gakkai, il libro del Gosho è tradotto in più di dieci lingue e viene studiato in 192 paesi del mondo. Rappresenta un magazzino di saggezza in grado di aprire le porte a una rivoluzione spirituale della nostra epoca. Allora, incoraggiandoci reciprocamente, uniamoci con ancora più forza, con il desiderio di proteggere l'organizzazione che porta avanti concretamente questi ideali umanistici nella società. Siamo ora arrivati alla parte finale di questo approfondimento sullo studio del buddismo, che chiude la serie di video su fede, pratica e studio. Tutti questi approfondimenti si basano sulle lezioni del maestro Ikeda raccolte nel volume Fede, pratica e studio, edito da Esperia, e già pubblicate sulla rivista Buddismo e Società. Per concludere, torniamo nuovamente al punto iniziale e in particolare al passo di Gosho che ha letto Giasmina in apertura. Impegnati nelle due vie della pratica e dello studio. Senza pratica e studio non può esservi buddismo. Devi non solo perseverare tu, ma anche insegnare agli altri. Sia la pratica che lo studio sorgono dalla fede. Insegna agli altri come meglio puoi, anche una sola frase o un solo verso. Continuiamo ad approfondire questo famoso passo di Gosho. Nel buddismo, pratica e studio non sono due aspetti separati. Il maestro Ikeda li paragona a due ruote di un carro, che procedono simultaneamente. Il cuore del buddismo è racchiuso nella pratica e nello studio, a cui i membri della Soka Kakkai di tutto il mondo si dedicano quotidianamente, incoraggiando anche gli altri a fare altrettanto. Infatti, nel buddismo di Nichiren Daishonin non basta praticare solo per la propria felicità. D'altronde, non potrebbe esistere un Buddha che si accontenta della propria illuminazione senza curarsi degli altri. Per questo la pratica per gli altri è così importante. Pratica per gli altri nel buddismo significa dare la possibilità alle altre persone di sperimentare il potere del Gohonzon. La saggezza che acquisiamo grazie allo studio del buddismo esiste per condurre tutti alla felicità. Questo è lo spirito di Nichiren Daishonin che la Soka Kakkai ha ereditato e messo in pratica grazie agli sforzi dei presidenti Makiguchi, Toda Ikeda e grazie all'impegno dei discepoli di tutto il mondo. La Soka Kakkai è un'organizzazione che si dedica a uno studio buddista che si traduce in azione. Come leggevamo nel passo di Gosho, Nichiren Daishonin scrive sia la pratica che lo studio sorgono dalla fede. Insegna agli altri come meglio puoi anche una sola frase o un solo verso. La fede quindi si esprime concretamente nella pratica e nello studio. L'espressione come meglio puoi significa sforzarsi al massimo. Questo impegno riguarda non solo lo studio ma anche l'azione di trasmettere il buddismo agli altri, grazie a cui anche loro potranno raccogliere i meravigliosi benefici che noi stessi stiamo sperimentando. I nostri dialoghi incentrati sul buddismo hanno veramente una grande importanza. Parlare agli altri del buddismo apre ogni volta la porta all'inizio di una nuova storia di rivoluzione umana e allo stesso tempo ci fa proseguire nel sentiero della nostra stessa rivoluzione umana. Il presidente Ikeda in questa lezione incoraggia caldamente ognuno e ognuna di noi a dar vita a dialoghi meravigliosi, a immergerci in scambi pieni di valore in cui ascoltiamo gli altri e offriamo parole di speranza, a creare interazioni che portano noi stessi e gli altri a prendere la determinazione di essere felici. Non importa se non ci sentiamo abbastanza esperti di buddismo da poterne parlare agli altri, facciamolo senza esitare. Ciò che più conta è il nostro cuore che desidera la felicità degli altri e con coraggio traduce questo desiderio in azione. In questo modo lo studio e la pratica, basati sulla fede, ci portano a sviluppare la saggezza, la compassione e il coraggio del Buddha e a elevare enormemente la nostra condizione vitale, stabilendo lo stato vitale di buddità nella nostra vita. Il presidente Ticheda scrive, Toda diceva, nella Soga Kakkai studiare il buddismo significa leggere il goscio con le nostre azioni, le parole e i pensieri. Lo studio nella Soga Kakkai è uno studio attivo e combattivo, uno studio da mettere in pratica non solo per noi stessi, ma anche per far avanzare Kosen Rufu e far crescere la Soga Kakkai, il movimento di persone comuni che sta realizzando Kosen Rufu nel mondo. Ciò che conta, perciò, non è tanto sviluppare una comprensione a livello teorico. La cosa più importante è riuscire a trasformare e migliorare la nostra vita e aiutare gli altri a fare lo stesso. Lo studio basato sullo spirito di maestro e discepolo è la tradizione della Soga Kakkai. È uno studio per vincere. È uno studio per approfondire la fede. È uno studio per condividere la legge mistica e realizzare Kosen Rufu. È uno studio per la trasformazione interiore e la rivoluzione umana. Dicevamo che nel paragone utilizzato dal maestro Ikeda, la pratica e lo studio sono come due ruote di un carro. Queste due ruote di pratica e studio sono unite da un asse indistruttibile, la fede nel Gohonzon, il vessilo di Kosen Rufu. La base di tutte le attività della Soga Kakkai per la felicità delle persone è il Gohonzon. Il fondamento della vita dei membri della Soga Kakkai è il Gohonzon, che apre e fa emergere la condizione vitale del Buddha racchiusa nella nostra vita. Questo approfondimento chiude il ciclo di video su fede, pratica e studio. Scrive il presidente Ikeda. Fede, pratica e studio sono le guide fondamentali per espandere il nostro stato vitale. Sono la formula della speranza per plasmare il nostro destino e costruire un cammino di eterna felicità. Il nostro destino, la nostra missione, è lottare per la felicità delle persone e trasformare la nostra vita. È costruire un'esistenza meravigliosa che non avremmo neanche potuto immaginare così bella. Questo è il motivo per cui esiste il buddismo. Continuando ad approfondire ogni giorno lo spirito di maestro e discepolo e basandoci sui nostri sforzi nella fede, nella pratica e nello studio, portiamo avanti insieme il movimento di Kosen Rufu per liberarci dalle catene del karma e per diffondere gioia e speranza. Eleviamo lo stato vitale dell'umanità e apriamo le porte del trionfo della nostra vita e del nostro movimento SOCA. Chiudiamo così questa lezione sullo studio. Grazie per l'attenzione.